dispiace un bel po' non spiase dispiace un bel po' vedere che poi certe serate finiscano in questo modo e tutto quello che si dovrebbe sempre si vorrebbe evitare di vedere su un campo da calcio ma questo è il ventus inter che non è mai stata una partita banale che non è una partita banale e che non sarà mai una partita banale non sarà mai una partita come tutte le altre sono profondamente dispiaciuto nel vedere che ci siamo lasciati sfuggire la vittoria dalle mani all'ultimo secondo bel davvero un bel peccato spiace veramente un sacco non so probabilmente la vittoria ecco tra l'altro adesso anche nel tunnel degli spogliatoi stanno continuando a beccarsi lukaku andano vice quadrado sicuramente qualcosa è accaduto lo vedremo con calma lo vedremo con calma nelle prossime ore brutti brutti segnali sto vedendo ancora in diretta adesso sono passati fuori e si vede soltanto lo stadio ma queste cose non mi fanno piacere però sicuramente il gesto di lukaku non è stato bello e non ho capito poi tra tra andano vice quadrado cosa è accaduto dicevo probabilmente la vittoria sarebbe stata anche eccessiva perché il primo tempo secondo me è stato giocato a pari livello dalle due squadre forse la juve un po più coraggiosa in generale nel voler cercare di portarsi a casa questa partita con l'inter che secondo me ha pure sofferto due o tre modi di approccio della juventus alla partita nel primo tempo visto una juventus che andava a pressare alta una juventus che voleva cercare di giocare nella metà campo avversaria che voleva provare il dominio anche in ripartenza anche in verticale a volte addirittura lasciando la possibilità di andare sugli esterni come di solito facciamo invece andare per via centrali quindi qualcosa di diverso finalmente un approccio diverso da parte della juventus che però si è tradotto in pochi pericoli un solo pericolo forse un e mezzo quella percussione in verticale di locatelli che va da vlaovic appoggio per di maria e quel tiro forse troppo comodo per andanovic che in carriera ha visto decisamente di peggio e le due occasioni grosse poi le ha avute l'inter alla fine in quel primo tempo lì nonostante mi sia sembrata una juventus volenterosa di fare la partita forse anche incapace di fare quel determinato tipo di partita lì perché solitamente ne facciamo tutta un'altra ci andiamo a chiudere aspettiamo nella nostra area metà campo nella nostra area di rigore andiamo ripartiamo sugli esterni piuttosto che in verticale andiamo più orizzontali quindi sicuramente non siamo in grado di farla anche una partita dell'altro tipo però il volerci provare era qualcosa che avevo preso in maniera positiva non eravamo stati pericolosi ma ci si poteva poi arrivare ci si poteva lavorare poteva diventare qualcosa sul quale andare avanti in futuro c'è il secondo tempo non mi è piaciuto per niente io credo che secondo tempo sia stato un approccio veramente brutto veramente brutto da parte della juve che ha completamente rinunciato a fare la partita una juve attendeista che ha iniziato a utilizzare una difesa posizionale che semplicemente attendeva l'inter quasi come se non ci fosse più energia non ci fosse più grinta voglia anche proprio energia è la parola chiave secondo me nelle vene dei giocatori della juventus quindi una juventus completamente opposta rispetto a quella che avevamo visto che prova trovare qualche energia in pressing nel momento in cui magari entra chiesa e quindi energie fresche quindi proprio a cercare di capire che era finita l'energia era finita la bomba era finita l'acqua poi è a sorpresa perché poi il calcio è questo sport qui è uno sport bizzarro particolare strano la juve va in vantaggio alla fine la juve che va in vantaggio dopo che milic sbaglia un gol clamoroso porta vuota che sembrava essere buono comunque lì sul filo del fuorigioco poi non abbiamo avuto un'immagine più chiara quella era stata probabilmente l'occasione più grande della partita della juventus la juve dopo tante volte che comunque magari con dei cross di fagioli per vlaovic che non finivano nel migliore dei modi la juve trova il vantaggio con una palla crossata dalla sinistra da rabiot che arriva a quadrado e che riesce a incrociare molto bene con un pallone che si sacca dopo anche un intervento di bastoni abbastanza disperato a cercare di togliere quella palla dalla porta sarò onesto con voi pensavo fosse finita la partita perché quando poi ho visto quella palla buttata sempre lunga da bastoni dalla tre quarti messa lì in quella juventus era arrivata ho detto va bene dai ci siamo portati a casa sta partita con difficoltà che era esattamente quello che mi aspettavo da juventus inter ma poi l'abbiamo portata a casa in qualche modo anche se mi aspettavo più il pareggio come risultato ero convinto quel punto di averla portata a casa in diretta nemmeno avevo visto il tocco con la mano di bremere cavolo che peccato non posso fare altro che dire che peccato perché se al 93esimo ti fiscano un calcio di rigore con questa dinamica è semplicemente un peccato anche se ripeto nel secondo tempo l'approccio del juventus non non mi aveva soddisfatto mentre nel primo tempo sì mi aveva galvanizzato detto cazzo finalmente andiamo a cercare di prenderli alti cerchiamo di mettere in difficoltà perché loro sono in difficoltà erano e sono una squadra in difficoltà che comunque stasera si porta a casa un po più di consapevolezza ora da qui a ritorno sarà lunga ci saranno tante partite nel mezzo ci saranno anche partite europee quindi avremo una dimensione differente delle squadre ci saranno degli assenti però juventus non finisce mai lo abbiamo visto appunto al minuto 93 con quel rigore calciato da lukaku e anche qua sono stato un illuso perché come pensavo che la partita potesse essere finita avevo anche immaginato un perin che va a salvare la serata e un rigore parato un rigore nemmeno irresistibile se vogliamo dirla tutta di romelu lukaku con perin che però viene spiazzato perin si butta a sinistra lukaku calcia alla destra del portiere e finisce tutto qua non è finita perché la qualificazione ancora in piedi certo è sarebbe stato decisamente meglio andarsela a giocare a san siro con un vantaggio piuttosto che una situazione di questo tipo io credo che la juventus abbia possibilità di lavorare per cercare di migliorare ancora di più però siamo in ritardo perché speravo di esserci arrivato un po più avanti a questo punto della stagione che un po il discorso che sto facendo da da un po di settimane a questa parte secondo me arrivati a questo punto doveva essere già più in là però mi porta a casa una cosa e questa può piacere allegri non piacere il calcio quello che ma la forza mentale la crescita anzi più che forse vi dico la crescita mentale che ha raggiunto questa squadra rispetto all'inizio del campionato è evidente perché all'inizio del campionato una squadra del genere come la juventus come è come era con il secondo tempo che ha fatto questa sera avrebbe semplicemente preso un'imbarcata e se si è arrivato invece all'ultimo secondo e l'inter per la prima volta in tre partite riesce a farti un gol e soltanto su calcio di rigore 270 minuti giocati un solo gol dell'inter contro la juve e su calcio di rigore all'ultimo istante significa che la juventus è migliorata ha lavorato e non sono coincidenze e sicuramente la juventus ha avuto una crescita mentale perché nel secondo tempo l'inter è rimasta praticamente sempre sulla nostra tre quarti a palleggiarci in faccia e noi siamo riusciti a rimanere spesso volentieri dentro la partita peccato che poi ci siano anche gli episodi nelle partite di calcio e questo episodio va a complicare e riaprire e modificare anche tutti degli scenari possibili è un bel dispiacere stasera sono veramente dispiaciuto perché per più cose per come è finita la partita perché non è mai un bello spettacolo per la presenza di del piero allo stadio che secondo me qualcosa a questo punto vuol pur dire che che si concretizza senza una vittoria per aver quadrado squalificato nella prossima partita che sarà tosta san siro non è per niente facile perché si poteva veramente far capire all'inter che la juventus 3 su 3 l'aveva battuta e che quindi non sarebbe stato facile nemmeno in casa loro soprattutto perché se si ha un minuto dalla fine ma almeno 30 secondi dalla fine se è in vantaggio è l'unico modo che hanno per buttarla dentro in qualche modo nonostante le occasioni che avevano avuto è stato un calcio di rigore dispiace dispiace veramente tanto ora sono curioso dico la più sincera verità di ascoltare le parole di simone inzaghi in conferenza stampa perché sono certo che anche questa sera riuscirà a stupirci